Quando inizia, come funziona, quando va in onda, tutte le info su Apri e Vinci, il nuovo quiz di Rai 2 condotto da Costantino della Gerardesca. Inizialmente previsto per il 10 dicembre, il nuovo quiz di Rai 2 Apri e Vinci era stato rimandato al 2019 con l'arrivo del nuovo direttore Carlo Frecero e ora ha trovato la sua nuova collocazione. Partirà il 7 gennaio e sarà prodotto dalla stand-by-me di Simona Empolani, il programma è già un successo in Israele dove è nato, Kazakistan, Belgio, Serbia, Turchia e Repubblica Ceca. Alla guida, Costantino della Gerardesca.In onda dal lunedì al sabato alle 16,45 e la domenica alle 20,00, Apri e Vinci vuole essere un quiz diverso da tutti gli altri. La novità più clamorosa riguarda il set di registrazione non uno studio televisivo, ma le case degli italiani. Il conduttore, infatti, entrerà fisicamente nelle abitazioni dei telespettatori. Si inizia con il suono del citofono e una domanda, se la risposta è esatta allora Costantino sale in casa insieme alle telecamere e il gioco inizia. Punto in palio un montepremi in gettoni d'oro che si può vincere rispondendo correttamente a 10 domande di difficoltà e valore crescente. Anche i passanti che Costantino incontra per strada hanno la possibilità di essere parte del quiz e vincere un gadget del programma, un apri bottiglie, rispondendo correttamente alle domande del conduttore. Sarà anche l'occasione per mostrare inediti spaccati d'Italia. Grazie a tutti per aver guardato il video.